Che cos'è il teatro? Il teatro usa il corpo, usa il cervello, usa la voce, usa l'anima, usa il cuore, usa la creatività. Tutto questo fa una persona. Nel nostro laboratorio, la nostra serra, perché le persone sbocciano come fiori, in questi anni ho visto cambiare tante persone. Sono entrate in relazioni con se stesse, sono entrate in relazioni con gli altri, hanno conosciuto l'altro, sono sbocciati. Grazie.